Il book multimercato mi permette di visualizzare, nel caso un titolo sia quotato contemporaneamente su più mercati, il book complessivo del titolo, con le proposte di negoziazione in essere sui diversi mercati di scambio, ad esempio un titolo obbligazionario quotato su MOT, TLX e MTF. Lo scalper book multimercato, che riporta in questo esempio, differisce dal book tradizionale solo appunto nelle sezioni book e time in sale e la differenza è relativa al fatto che vengono riportati oltre a prezzi e quantità i mercati di riferimento. Nel time in sale vediamo in questo caso come i due scambi sono avvenuti sull'euro TLX, nel book vediamo come le proposte siano ora su euro TLX, ora su MOT, ora su MTF. Posso decidere se visualizzare tutti i mercati su cui il titolo ho quotato o solo una parte di essi. Per poterlo fare richiamo il menu contestuale con il tasto destro del mouse e scelgo la voce mercato. Vedrete apparire indicati euro TLX, MOT, MTF, semplicemente selezionandoli o deselezionandoli andrò a far sì che siano visualizzabili o meno nel book. Ora vado a rimpostarli, quindi vado a rimpostare euro TLX e MOT. Ci sono altre possibilità di personalizzazione, possiamo per esempio settare come visualizzare i valori ripresentati sui vari mercati. Per fare questa scelta richiamo sempre il menu contestuale ma in questo caso scelgo la voce formato. Nella parte inferiore mi sposto ancora leggermente a sinistra per potervi fare vedere le modifiche nel book, ritrovo le opzioni possibili tramite questa tendina. La voce raggruppati, clicco su applica per potervi fare vedere l'esempio. Attraverso questa funzione sparisce l'indicazione esplicita dei mercati, vedrete che qua non ritroviamo più MOT, MTF e TLX e al posto di questa appare un trattino che compatta il book stesso. Altra opzione è primo livello, clicco su applica per mostrarvela. In questo caso verrà rappresentato solo il primo livello espanso mentre tutti gli altri risulteranno compressi. In alternativa posso selezionare selezionabili. dando l'applicazione posso decidere io a quali livelli di prezzo espandere e quali livelli di prezzo non espandere. Per poterlo fare semplicemente faccio un doppio clic sul trattino di mio interesse. Un'ultima nota nel caso alcuni di voi utilizzano la gestione degli ordini direttamente dal book. Se io vado a modificare il prezzo del mio ordine spostandolo su un altro livello di prezzo quotato sempre sul mercato nel quale il mio ordine è già inviato, allora la piattaforma effettuerà una semplice modifica. Nel caso in cui a livello di prezzo al quale mi voglio spostare non sia presente il mercato sul quale il mio ordine è già inviato, allora il mio ordine iniziale verrà cancellato dal mercato attuale e reinserito dopo l'avvenuta cancellazione sul mercato di riferimento del prezzo scelto.